Ok, oggi facciamo gli amaretti. Vi faccio vedere tutti gli ingredienti così nessuno può reclamare. Ok? Ok, allora, tre tuorli d'uovo bianchi vanno sbattuti, così. Non proprio esagerati, perché se no non va bene per fare gli amaretti, ok? Vedi? Ok, così basta già, va bene? 300 grammi di mandorle, butto dentro il bianco d'uovo. Bene. 200 grammi di zucchero. La buccia di un limone grattugiato e amalgamare il tutto. Suggeriamo un attimino così. Vedete che queste dosi sono giuste, perché l'impasto deve essere durino per poter fare le palline. E adesso vi faccio vedere. Va bene? Adesso finisco di impastare bene e poi dopo vi faccio vedere come fare le palline. Ok? Ok. Adesso l'impasto è pronto, avete visto la consistenza. Se per caso vedete che è molle, aggiungete ancora un po' di mandorle tritate, perché deve essere la pasta consistente. Così, vedete? Così. Così. Vedete? Quindi fate una pallina, come sto facendo io, vedete? E la pogliate qua così. Ok? Vedi? Così. Così. Ok? Poi, prendete una mandorla, che la affittate sopra, così, così, così. Adesso finisco di farle e poi vi faccio vedere il proseguimento. Ok? Ci vediamo? Ah! Dimenticavo che mi sono sbagliato. No? Togliamo le mandorle. No? Così. Una volta fatte le palline, adesso io avevo fretta e quindi non ve l'ho fatto vedere. Comunque, una volta fatte le palline, bisogna preparare un piatto con dello zucchero, così, vedete? Comunque, non è successo niente. la ecco qua. e c'è un po' di acolo mi ero dimenticato dello zucche vedete che va tutto bene uguale così una volta fatto questo rimettiamo la mandorla sopra l'amaretto adesso finisco di farle e vi faccio vedere il seguito dopo ok? ok avete visto che sono fatte a mano naturalmente una piccola pazienza però funziona sempre bene lo stesso ok? adesso l'inforno dentro il forno non ventilato mi raccomando 15-20 minuti però controllate se vedete che è cotto abbassate un attimino il forno vedete voi ma le regole sono queste ok? adesso l'inforno e vi faccio vedere fra un quarto d'ora e venti minuti come sono venute va bene? dai ciao ci vediamo dopo gli amaretti sono fatti lo vedete? sono perfetti adesso li prendo a uno a uno li metto nel suo apposito che è il tezzo e li metto via così andate eh? guardate e sono veramente belli sono uno spettacolo credetemi che sono uno spettacolo un profumo incredibile va bene dai adesso finisco di metterli a posto quando sono pronto vi faccio vedere il piatto completo finito va bene? ok ecco finito guardate guardate è uno splendore più bello di così non si può va bene? ciao a tutti alla prossima